Buon pomeriggio, ben trovati con l'edizione del telegiornale di RT Calabria e disperazione, quella che emerge da una nota diffusa dai 172 dipendenti della Fondazione Campanella di Catanzaro, destinatari di altrettante lettere di licenziamento. Nella nota si rivolgono alla giunta regionale del centro-destra, non facendo sconti a nessuno. Il servizio. Cos'è accaduto in questi anni? Il nulla. Anzi no. Sono partite le lettere di licenziamento per 172 dipendenti. Il 23 novembre si scrutinano le schede elettorali per il nuovo Consiglio e per noi da lunedì non ci sarà una poltrona sulla quale sedersi perché non avremo neanche più il posto per lavorare. Inizia così una nota diffusa dai lavoratori licenziati della Fondazione Tommaso Campanella di Catanzaro, lungo sfogo, carico di patos in quella disperazione di chi un futuro lavorativo di punto in bianco sembra non avercelo più, è un fatto con cui la coscienza di tutti non può non fare i conti. Nella nota non fanno sconti a chi a loro dire ha concorso a mettere la parola fine su un polo oncologico che ha rappresentato un punto di eccellenza per la regione. E' straordinario continuano che le sorti della fondazione del suo personale sia nelle mani di Antonella Stasi e quindi in un incredibile conflitto di interessi dovendo aprire un centro oncologico, il Marrelli Hospital. E' incredibile ancora proseguono che l'intera giunta complice di Peppe Scopelliti, Antonella Stasi, ha creduto di riuscire ad arrivare alle elezioni senza problemi. La nota va avanti con i lavoratori che si domandano quanti di coloro che detenevano e detengono il potere in seno alla regione Calabria, si siano messi per un attimo nei loro panni. Vorremmo solo chiedere, aggiungono i licenziati della fondazione, e si riescono a capire che il terrore che li attraversa di non essere più rieletti per 20 di loro sia commisurabile al nostro terrore di non avere più uno stipendio al lavoro. Dei malati abbiamo capito da tempo che rappresentano un ostacolo, un problema, ma non una priorità. E vanno giù duro, non vogliamo offendere nessuno, dicono, si sono offesi da soli. Se dopo tanti anni non hanno trovato una soluzione o sono incapaci o sono in malafede. Le critiche dei licenziati poi cadono all'interno della nota sul modello sanitario che aveva proposto l'ex governatore della regione Calabria, loro dire, un piano basato maldestramente sull'idea di disparmio di risorse, sacrificando il pagamento dei debiti, come nel caso della fondazione Campanella. E nella nota in conclusione non sono mancate stoccate anche al centro-sinistra. Non gongoli a no sinistra, scrivono a Chiosa, quelli in seno al Consiglio hanno fatto una falsa opposizione. Quelli fuori si interessavano della fondazione solo se potevano utilizzarla a fini elettoralistici. E i sindacati dicono, beh, stendiamo un velo pietoso. Intanto sono iniziati a aggiungere i primi attestati di solidarietà dalla politica. Ho sentito una stretta al cuore, ha dichiarato il deputato del nuovo centrodestra Rosanna Scopelliti, perché nei fatti il datore di lavoro di queste 172 famiglie calabresi è l'ente regionale. Con quale credibilità politica, continua la deputata, ci si può presentare agli elettori calabresi per le prossime elezioni regionali, se si è di fatto eredi delle giunte regionali che hanno causato questo scempio? Con quale coraggio si potranno guardare in faccia i lavoratori licenziati e le loro famiglie, vittime di una trascuratista istituzionale senza scusanti, che possono rappresentare simbolicamente tutti i padri e madri di famiglie disoccupati, i giovani alla disperata ricerca di un lavoro, gli LSU, LPU sottoccupati e i precari? Sulla questione è intervenuto anche il candidato alla presidenza delle regioni Calabria, espressione del Movimento 5 Stelle, Cono Cantelmi. Con la pronta sottoscrizione del nuovo protocollo tra Università Regione e Dice Cantelmi, si sarebbero potuti risparmiare più o meno 40 milioni di euro complessivi, 20 milioni per anno. Con queste cifre la Fondazione Campanella si sarebbe salvata alla grande, non ci sarebbe stato bisogno della solidarietà parlata, inutile affermare i licenziamenti. E sono in assemblea permanente i lavoratori raggiunti appunto dalla lettera di licenziamento della Fondazione Campanella, una protesta contro la situazione che li vede penalizzati. Cos'è accaduto in questi anni? Il nulla, anzi no, sono partite le lettere di licenziamento per 172 dipendenti. Il 23 novembre si scrutinano le schede elettorali per il nuovo Consiglio e per noi da lunedì non ci sarà una poltrona sulla quale sedersi perché non avremo neanche più il posto per lavorare. Inizia così una nota diffusa dai lavoratori licenziati della Fondazione Tommaso Campanella di Catanzaro, lungo sfogo, carico di patos in quella disperazione di chi un futuro lavorativo di punto in bianco sembra non avercelo più, è un fatto con cui la coscienza di tutti non può non fare i conti. Nella nota non fanno sconti a chi a loro dire ha concorso a mettere la parola fine su un polo oncologico che ha rappresentato un punto di eccellenza per la Regione. E straordinario continuano che le sorti della Fondazione e del suo personale sia nelle mani di Antonella Stasi e quindi in un incredibile conflitto di interessi dovendo aprire un centro oncologico, il Marrelli Hospital. È incredibile ancora proseguono che l'intera giunta complice di Peppe Scopelliti, Antonella Stasi, ha creduto di riuscire ad arrivare alle elezioni senza problemi. La nota va avanti con i lavoratori che si domandano quanti di coloro che detenevano e detengono il potere in seno alla Regione Calabria si siano messi per un attimo nei loro panni. Vorremmo solo chiedere, aggiungono i licenziati della Fondazione e si riescono a capire che il terrore che li attraversa di non essere più rieletti per 20 di loro sia commisurabile al nostro terrore di non avere più uno stipendio al lavoro. Dei malati abbiamo capito da tempo che rappresentano un ostacolo, un problema, ma non una priorità. E vanno giù duro, non vogliamo offendere nessuno, dicono, si sono offesi da soli. Se dopo tanti anni non hanno trovato una soluzione o sono incapaci o sono in malafede. Le critiche dei licenziati poi cadono all'interno della nota sul modello sanitario che aveva proposto l'ex governatore della Regione Calabria, loro dire, un piano basato maldestramente sull'idea di disparmio di risorse, sacrificando il pagamento dei debiti, come nel caso della Fondazione Campanella. E nella nota in conclusione non sono mancate stoccate anche al centro-sinistra. Non gongoli a sinistra, scrivono a Chiosa, quelli in seno al Consiglio hanno fatto una falsa opposizione. Quelli fuori si interessavano della Fondazione solo se potevano utilizzarla a fini elettoralistici. E i sindacati dicono, beh, stendiamo un velo pietoso. Intanto sono iniziati ad aggiungere i primi attestati di solidarietà della politica. Ho sentito una stretta al cuore, ha dichiarato il deputato del nuovo centro-destra Rosanna Scopelliti, perché nei fatti il datore di lavoro di queste 172 famiglie calabresi è l'ente regionale. Con quale credibilità politica, continua la deputata, ci si può presentare agli elettori calabresi per le prossime elezioni regionali, se si è di fatto eredi delle giunte regionali che hanno causato questo scempio? Con quale coraggio si potranno guardare in faccia i lavoratori licenziati e le loro famiglie, vittime di una trascuratista istituzionale senza scusanti, che possono rappresentare simbolicamente tutti i padri e madri di famiglie disoccupati, i giovani alla disperata ricerca di un lavoro, gli LSU, LPU sottoccupati e i precari? Sulla questione è intervenuto anche il candidato alla presidenza delle regioni Calabria, espressione del Movimento 5 Stelle con Ocantelmi. Con la pronta sottoscrizione del nuovo protocollo tra Università Regione e Dice Cantelmi si sarebbero potuti risparmiare più o meno 40 milioni di euro complessivi, 20 milioni per anno. Con queste cifre la Fondazione Campanella si sarebbe salvata alla grande e non ci sarebbe stato bisogno della solidarietà parlata, inutile affermare i licenziamenti. Questa mattina è stato autorizzato dai vertici Acros lo scarico dei mezzi. Raggiunto il primo accordo adesso si lavora per il futuro. Appena arrivato una notizia importantissima. Sì, per quanto riguarda lo scarico, ho appena annunciato che ancora non potevamo scaricare i mezzi. È arrivata adesso la comunicazione dalla parte della proprietà di salvaguardia ambientale che oggi ci fa scaricare un po' di differenziata che sarebbe carta, plastica, ingombranti cartoni. Quindi noi riusciamo a prendere una boccata d'aria, poter fare qualche servizio. Però il sindaco ha mantenuto il suo impegno perché ieri ci aveva detto che stamattina vedeva personalmente lui. In questo caso colgo l'occasione per ringraziarlo perché comunque è un discorso fondamentale scaricarlo. Ringraziamo il gruppo Vrenno arrivato a questo punto perché lunedì il nostro amministratore comunque deve vedere di definire questo discorso perché magari è un accordo che hanno fatto col sindaco, però sicuramente il sindaco non avrà dato dei soldi al gruppo Vrenno. Vedremo un attimino lunedì cosa esce fuori. Intanto ringraziamo perché noi riusciamo a caricare qualcosa ma soprattutto per i cittadini, per noi stessi perché stiamo lavorando ma stiamo lavorando con poco per prendere molto rallentatamente. Allora c'è stata un'intesa, diciamolo con estremamente sincerità che poi alla fine dei conti l'abbiamo vissuta insieme, in diretta possiamo dire. Un'intesa tra le parti, adesso si può scaricare quindi poi si può di conseguenza riempire di nuovo quindi c'è la possibilità di non lasciare la città in una situazione d'emergenza e questa è già una cosa. Però voi vi aspettate anche i pagamenti? Certo, noi soprattutto aspettiamo i pagamenti arrivati a questo punto perché non mi sembra giusto per quelle persone che ancora non hanno percepito lo stipendo e ribadiamo sempre il fatto che 20 operai sono pagati e 60 no, quindi non è giusto. Un conto che non si era pagato nessuno, eravamo tutti nella stessa barca, un conto che 20 sono pagati e 60 no. Sì, ma se passano altri 20 giorni quei 20 dovranno essere ripagati, cioè voi dovete avere anche garanzie per il futuro. Io spero che lunedì si definisca tutto perché mandare un'email da Roma, io credo che se tutte le parti sono state concorde a fare lo sblocco di Equitalia, non credo anche il regionale dell'Inps era stato d'accordo però giustamente superando una certa somma dovevano comunque chiedere all'Inps di Roma, io non credo che l'Inps di Roma crei problemi, rimane il fatto che noi non lo possiamo sapere perché non abbiamo una sfera di cristallo, aspettiamo questa risposta perché è di vitale importanza, anche perché se noi non lavoriamo, la nostra produzione è più carichi e più noi possiamo fatturare per pagarci, se nel caso noi rimaniamo fermi 10 giorni e non fatturiamo niente viene comunque sempre meno alle casse di questa azienda che poi deve far fronte agli stipendi, al gasolio, non so come faranno a fare quadrare tutto insieme però se noi non fatturiamo non ci possiamo pagare. I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno sgominato una maxi gang di trafficanti internazionali di cocaina importata dal Sud America. I manette questa mattina all'alba su ordinanza di custodia cautelare emesse dal GIP su richiesta del PM Alberto Lari della direzione di stettuale antimafia sono finite 9 persone. Gli arresti sono in corso a Genova, a Crotone, a Napoli e a Moncalieri in provincia di Torino. L'operazione denominata Scacco Matto è lo sviluppo delle indagini del nucleo investigativo di Genova che il 3 marzo del 2012 portò al sequestro di 165 kg di cocaina purissima all'interno del portabagagli di una autovettura parcheggiata all'interno della marina aeroporto di Sestri Ponente in provincia di Genova. In quella occasione vennero arrestati in flagranza tre trafficanti all'interno dell'operazione sul traffico di droga due pregiudicati crotonesi che sono stati arrestati. Felice Mesuraca, fermato ieri a Crotone e trasferito in carcere a Catanzaro. L'altro Agostino Frisenda, classe 1962 e ai domiciliari a Moncalieri dove vive. E continuiamo con la cronaca. La DIA di Reggio Calabria ha posto sotto sequestro beni per 2 milioni di euro ricondicibili ad un imprenditore reggino ritenuto affiliato alla Cosca Buda Imerti. Beni del valore di circa 2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla DIA di Reggio Calabria Domenico Barbieri, 57 anni, imprenditore edile, ritenuto componente della Cosca Buda Imerti operante a Villa San Giovanni e Fiumara di Muro e attualmente detenuto. Un provvedimento scaturito da un'articolata ed esaustiva attività di indagine patrimoniale volta a verificare le modalità di acquisizione dell'ingente patrimonio societario riconducibili a Barbieri. Dalle indagini sono emersi elementi che hanno mostrato la pericolosità sociale qualificata del 57enne affermando sotto il profilo patrimoniale scritto nel provvedimento che la richiesta di sequestro appare supportata da elementi idonei e da esprimere la pericolosità sociale del proposto e dunque meritevole di accoglimento. Tre beni sequestrati ci sono quattro immobili, le quote di otto terreni oltre a rapporti finanziari in fase di quantificazione intestati o comunque riconducibili sia a Barbieri sia ai suoi familiari. Tre componenti di una famiglia francese tra cui una bimba di 5 anni sono stati soccorsi dal personale della Capitaneria di Porto di Crotone mentre erano a bordo di una imbarcazione in avaria a largo di Isola Capolizzuto. L'imbarcazione a causa di un guasto al motore e delle pessime condizioni del mare non riusciva a rientrare. La motovedetta ha trainato nel Porto di Crotone la barca, le tre persone salvate sono in buone condizioni. Si è tenuta una conferenza stampa presso la Sala Consigliare del Comune di Crotone nei giorni scorsi per presentare la nuova iniziativa di democrazia partecipata elaborata e quella tenuta dalle associazioni di democrazia orizzontale, Associazione Sociale Il Blu e Movimento Manifesto per Crotone. Abbiamo presentato questa proposta nella Sala del Consiglio Comunale, riassumiamola, cerchiamo di investire i cittadini anche di questa idea. Sì, intanto vi ringrazio per l'opportunità che ci date di far conoscere questa iniziativa. È un'iniziativa a suo modo rivoluzionare per Crotone, nel senso che per la prima volta dall'esterno del Consiglio Comunale arriva una proposta costruttiva che indica la fonte di finanziamento, la sostenibilità finanziaria nel tempo, di che cosa? Dell'istituzione, di un fondo sociale straordinario di cui questo ente, l'ente Comune di Crotone, non si era mai dotato. È una proposta tecnicamente che viene elaborata secondo il modello dell'open government, quindi è un nuovo modello di partecipazione ed ecco perché è rivoluzionario, perché è la prima volta che in questa città, a memoria d'uomo degli ultimi vent'anni, viene fatta un'operazione di questo genere. È l'istituzione di un fondo sociale straordinario da cosa nasce come richiesta? Dal fatto che viviamo un momento di assolutamente disagio straordinario, da un punto di vista sociale, e quindi non è più possibile dare le risposte che si davano in passato. È necessario quindi mettere a disposizione delle risorse aggiuntive rispetto a quelle che vengono dai programmi regionali e nazionali. Noi come associazione, facendo rete con altre associazioni, i firmatari del documento, abbiamo elaborato la proposta che è un potente stimolo e siamo ottimisti di poter vedere realizzata quella che è una misura di equità sociale e di civiltà improcrastinabile per il nostro comune. Chiunque gira la città vede le condizioni in cui ci troviamo, persone che hanno, lo dico tranquillamente, la luce a casa è staccata, gente che ha difficoltà anche a fare la spesa, e purtroppo i servizi sociali comunali che non riescono a venire incontro alle richieste proprio per carenza di fondi. Ecco il senso della nostra proposta. Avreste anche individuato il capitolo da cui attingere queste somme? Certo, utilizzando che cosa? Quei fondi che il comune di Crotone riceve ogni anno attraverso la regione per le roi altiseni, cioè per l'estrazione del gas che avviene qui da 40 anni nello spazio antistante della città di Crotone. Quindi è una fonte di finanziamento certa, è una fonte di finanziamento che va utilizzata a vantaggio dei cittadini, e l'abbiamo anche indicata espressamente nel documento. Per cui a questo punto è necessario semplicemente che cosa? L'espressione di una volontà politica in tal senso. E noi, come dicevo prima, ci sentiamo ottimisti, perché non voglio credere che gli amministratori della città di Crotone, pur nelle difficoltà complessive che sta vivendo come bilancio anche questo ente, vogliano, come dire, soprassedere su una tematica che ha questa rilevanza sociale e questa importanza straordinaria in un momento come questo. Ho lanciato al centro-sinistra la sfida a non dare spazio ai transfughi, basta con quei politici che decidono da quale parte stare a seconda, da dove, di dove spire il vento o delle possibilità di realizzazione personale. Lo ha detto Vanda Farro, candidata alla presidenza della regione Calabria per il centro-destra. È la scelta, giunto, di penalizzare un trasformismo che in Calabria è diventato consuetudine ed è soprattutto la volontà di stimolare un vero e proprio cambio di rotta che i calabresi meritano. Contro Jobs Act, ai servizi, ai tagli, ai diritti, l'USB, l'Unione Sindacale di Base, ha proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore in tutto il lavoro pubblico e privato. Le ragioni di questa manifestazione dell'USB Calabria? Allora, la manifestazione di oggi si innesca in una dinamica di uno sciopero generale indetto, sciopero generale di tutti i lavoratori indetto dalla Confederazione USB per protestare contro questa manovra che continua ancora una volta di più ad impoverire i deboli ed arricchire chi già sta bene. Una crisi generale che è stata provocata dai grandi gruppi finanziari, dalle grandi imprese e dalle grandi banche viene fatta pagare esclusivamente ai lavoratori che con i loro sacrifici stanno cercando di sanare una situazione che invece si ripercuote sulle loro spalle. Questi sacrifici però non servono a nulla perché il debito pubblico anziché diminuire continua ad aumentare in modo impressionante e chi ne fa le spese oggi sono i soggetti più deboli cioè i precari, i lavoratori dipendenti, i soggetti che sono fuori e vengono esclusi dal mondo del lavoro che non trovano alcuno sviluppo, alcuno sbocco professionale. Questa manifestazione si svolge con una manifestazione a carattere regionale. In Calabria la situazione poi è ancora più disperata perché abbiamo una serie di situazioni che sono legate ai soggetti precari, gli LSU e le più, che sono 5.000 in Calabria che vengono costantemente prese in giro. Ci troviamo una situazione dei lavoratori della mobilità in deroga che non vengono regolarmente pagati i casti integrati che non troveranno mai uno sbocco professionale. La situazione di oggi noi ci rivolgiamo a questo governo chiedendo che revochi, immediatamente blocchi la manovra finanziaria che prevede fra le tante cose negative anche la riduzione dell'IRPEF fa carico dell'impresa, senza però dire che l'IRPEF, quella imposta serve a finanziare il servizio sanitario nazionale, quindi si dà alle imprese, si toglie ai cittadini anche sotto forma di servizi, per non parlare ovviamente di tutti i servizi comunali che come sapete hanno le tasse regionali e comunali dovranno per forza aumentare. Quindi noi abbiamo un giudizio fortemente negativo. Da questa finanziaria che è fortemente voluta e condizionata dall'Europa, è l'Europa che ci detta quali sono le regole e le regole non sono le nostre, l'Italia da questa manovra con questa manovra non uscirà sicuramente dalla crisi, lo dimostra appunto come dicevo prima il debito pubblico che continua ad aumentare. Il senatore noto penalista Nico Dascola è il candidato alla Presidenza della Regione per Alternativa Popolari per la Calabria, formata da Nuovo Centrodestra e Udc alle regionali del prossimo 23 novembre. All'annunciarlo il coordinatore nazionale del Nuovo Centrodestra Gaetano Guagliarello è il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa. La mia candidatura a Presidente della Regione Calabria costituisce un punto di partenza nell'ambito dell'intesa tra NCD Udc per la creazione di un polo moderato ma veramente innovatore, da anni atteso dall'elettorato. Lo afferma il senatore Nico Dascola in una dichiarazione, così intesa all'occasione per l'acquisizione di un forte patrimonio identitario volto a distinguerci da ogni altro partito politico nel rispetto delle grandi tradizioni dei partiti popolari europei. Coro di consensi per la candidatura del senatore Dascola, ritenuta un cambio per la gestione di una Regione così martoliata qual è la Calabria. Offriremo alla Calabria la proposta migliore con un programma di governabilità che racchiuderà punti essenziali e facilmente realizzabili per superare le sabbie mobili di un sistema farraginoso. Nico Dascola ha una storia che parla per lui, lo afferma il senatore e coordinatore regionale del nuovo centrodestra Antonio Gentile, circa la candidatura a presidente della Regione di Nico Dascola per l'alternativa popolari per la Calabria. Non siamo il polo dei moderati inteso come equidistanza aggiunge ma alla sintesi tra conversatori e progressisti che si richiamano al futuro e alla Calabria nel 2019. Il centrosinistra è imbligliato tra contraposizioni interne che sembrano perpetuare lo scontro tra Renziani e Dalemiani. Questo è il vero limite che ha davanti a sé il presidente Oliverio. Il centrodestra ha scelto di rinunciare alla contesa inseguendo solo la vana ossessione di dare caccia all'NCD, un atteggiamento che rischia di far loro la stessa fine che ha fatto la Roma contro il Bayern. Il bipolarismo muscolare è finito e peraltro in Calabria si rischia di lasciare il podio a 5 stelle. Da nessun polo tradizionale sono arrivate proposte organiche sull'attualità. È emblematico il fatto che solo noi stiamo chiedendo all'Aggiunta regionale di chiedere lo sblocco del turnover. I campanilismi sono una iattura per questa terra ma è singolare come una grande città metropolitana come Reggio Calabria sia diventata città aperta, dimenticata nei programmi politici come se non avesse più diritto quasi alla rappresentanza. Una cosa veramente inconcepibile. La volontà dei componenti del nuovo centrodestra calabrese è stata quella di puntare su un candidato a presidente che avesse tutte le caratteristiche necessarie per dare vita, da qui a breve, ad una nuova fase del partito a livello regionale. Lo afferma l'assessore regionale Luigi Fedele del nuovo centrodestra che esprime viva soddisfazione per la candidatura a presidente della regione di Dascola. La figura del senatore infatti coincide con l'idea di serietà, professionalità e competenza che il nuovo centrodestra calabrese si è imposto per avviare quel processo virtuoso che diventa, mai come adesso, necessario a far recitare la Calabria al mezzogiorno un ruolo non più marginale nello scacchiere degli equilibri nazionali. La fiducia nei confronti della politica rasenta quasi lo zero oramai, ma i cittadini non rinunciano a votare. E' quanto emerso nel corso del nostro giro a Cosenza, in cui abbiamo raccolto l'umore della gente comune. Sentiamo. Il dato certo è che ormai i calabresi sono disillusi rispetto alla politica e ai politici. Una situazione innegabile in cui l'interrogativo ricorrente, in vista delle prossime consultazioni elettorali per l'elezione di presidente giunta della regione Calabria, e mai i cittadini si recheranno alle urne, lo abbiamo chiesto ai cosentini e da quanto ci hanno risposto pare che la tendenza sia quella di non rinunciare al voto. Sì, sicuramente, però lo tengo per il momento per me. Sì, credo proprio di no. Si andrà alle urne ok, ma la fiducia nella politica sembra una pura utopia. Non si interessano neanche più di quanto accade nelle fasi preparatorie alla tornata elettorale, certi che il quadro che ne verrebbe fuori sarebbe disperato. Siamo anche abbastanza un po' delusi da come sta andando la cosa, quindi spinge alcuna volta, anche se è negativo, ad allontanarsi dalla visione politica. però sto cercando di seguire un po' il tutto, insomma. Ancora nessuno. Aspettiamo, poi alla fine decidiamo. Guarda, adesso attualmente di politica non mi interessa, perché ho avuto delusione. Non vado a votare sicuramente. Calabria può cambiare, secondo lei? Può cambiare, ma secondo me non cambierà. È meglio non farsi idee. Non vorrei essere volgare. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Si terrà domani mattina a partire dalle 9 una manifestazione di protesta organizzata dall'associazione Iris del quartiere Margherita di Crotone. La protesta nasce per chiedere un intervento immediato sulle strade interne che collegano le diverse vie di Margherita. Il presidente dell'associazione, Luigi Vrenna, invita i crotonesi a partecipare perché i diritti siano riconosciuti anche agli abitanti delle perecherie della città di Crotone. Quindi appuntamento alle ore 9 a Margherita per una civile manifestazione di protesta. Il telegiornale termina qui. Noi torniamo alle 17. Adesso lo sport. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio. Noi abbiamo il dovere morale di riportare ciò che accade. Né dobbiamo stravolgere gli eventi, magari facendo finta di niente e di non capire, e né tantomeno dobbiamo sentenziare senza lasciare nessuna speranza. Dobbiamo raccontare filo e persegno le vicende così come si realizzano e si concretizzano. Non abbiamo nessun diritto a cercare soluzioni, semmai possiamo dare giudizi. E anche qui bisogna ponderare le parole nel rispetto delle parti e nella stima reciproca che sussiste con la società. E soprattutto quando si accontezza dell'attuale situazione economica e del campionato in questione, e soprattutto delle squadre con cui si ha a che fare, se a volte, ma in verità pochissime volte, capita che qualcosa va storto, non bisogna essere distruttivi a priori e né a prescindere, e cercare magari di sostenere l'enturaggio rosso-blu. Nessuno può smentire che la nostra crescita professionale è legata alla crescita esponenziale del crotone degli ultimi vent'anni. Ecco perché è un peccato retrocedere, sarebbe anche una nostra retrocessione professionale. Non cambia nulla probabilmente dal punto di vista economico, ma ne va del prestigio. Quando scriviamo o parliamo di una sconfitta ci duele il cuore, così come ci emozioniamo quando invece raccontiamo una vittoria. Quindi se qualcuno vuole etichettarci come pessimisti di natura e che noi si guardi al bicchiere mezzo vuoto, sappia in partenza che non abbiamo nessun interesse a remare contro, semmai il contrario. E poi, prima che detti ai lavori, noi siamo tifosi del crotone e di crotone. Dopo la battuta d'arresto contro Traiger, Brolo e tra le Muramiche, rende di Brunello Trocini reduce non solo dalla sconfitta, ma anche dalla prima brutta prestazione, è intenzionato a riscattarsi nel prossimo turno contro Orlandina. Una sconfitta quella di domenica scorsa, che non è stato facile per i biancorossi mandare giù, ma soprattutto ciò che gli uomini di Trocini hanno mal digerito è stata una performance per nulla piacevole. Credo che sia la prima partita in cui abbiamo fatto non bene e quindi ci siamo meritati questa sconfitta. Credo che il giudizio più corretto sia questo qui. mentre all'inizio abbiamo perso male qualche partita, non assolutamente meritandola per le partite fuori quasa, questa probabilmente viene a coronamento di una prestazione in cui sono coincise un po' di defaianze da parte di un bel numero di ragazzi e quindi credo che sia giusto che la Tiger abbia tratto il massimo dal Lorenzo. Ci dispiace, ma è chiaro che ci rimbocchiavo le mani e sono convinto che faremo benissimo nelle prossime case. Intanto il prossimo avversario, come dicevamo, si chiama Orlandina e l'imperativo per il render rifarsi dalla brutta figura racimolata a Lorenzo domenica scorsa. Noi probabilmente troveremo un avversario che vorrà riscattarsi che metterà tutto l'impegno possibile, forse anche la cattiveria come giusto che sia in questi frangenti, per riprendersi. Dall'altra parte ci rende abbastanza, altrettanto arrabbiato perché al di là di questa sconfitta le altre sono state immeritate e quindi vogliamo riprendere il campionato che forse ci compete di più che quello in cui potremmo dire la nostra in questo campionato. La palla a volo femminile Crotone domenica al debutto casalingo dopo la prima sconfitta in quel di Lamezia. Piero ricomincia l'avventura, siamo pronti? Domenica sera si gioca al Palacro. Sì, sabato scorso abbiamo perso contro Lamezia che è un'ottima squadra forse il calendario non è stato benevolo con noi però abbiamo archiviato già e abbiamo in mente la prossima gara con il gioiosa Ionica che è una gara che dobbiamo vincere ad ogni costo perché la mia squadra merita di stare nei piani alti della Serie C. la formula in questa stagione è come l'anno scorso però siamo due squadre in più quindi è un torneo molto lungo saranno 26 gare più playoff per le prime otto il nostro scopo è quello di fare meglio dell'anno scorso quindi di arrivare prima del quinto posto per poi giocarci i playoff. Quindi finalmente possiamo sperare in una promozione naturalmente giocando, si è ben chiaro. Certo, noi abbiamo costruito questa squadra pezzo per pezzo in questo momento manca Romina Pioli che mancherà per i prossimi nove mesi alla quale facciamo i nostri migliori auguri. Certo, pure io me li autofaccio però parliamo di pallavolo in questo momento il posto 4 viene coperto da una giovanissima di 13 anni è il nostro punto non debole però con qualche pecca vedremo se nei prossimi mesi questo gap verrà colmato. Ci sono nuove atlete in forza alla pallavolo crutone? Sì, abbiamo preso una palleggiatrice di Milano l'anno scorso ha vinto la Serie C in Puglia, molto brava 22 anni poi abbiamo un gradito ritorno che è il centrale di Ciron Marina e abbiamo un posto 4 sempre di Ciron Marina abbiamo la conferma di Cosentino e di Nina Bitonti che in questa stagione fa il capitano. La squadra di Gioio sei alla portata delle tue ragazze? Abbiamo visto qualche video io credo di sì poi siamo in casa noi in casa l'anno scorso abbiamo perso per una volta sola quindi pur se non al completo però si può vincere e dobbiamo vincere. In bocca al lupo. Crepio.